barba blu c'era una volta un uomo il quale aveva palazzi e ville principesche e piatterie d'oro e d'argento e immobilia di lusso ricamata e carrozze tutte dorate di dentro e di fuori ma quest'uomo per sua disgrazia aveva la barba blu e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gambe dalla paura fra le sue vicinanti c'era una grandama la quale aveva due figlie due occhi di sole egli ne chiese una in moglie lasciando alla madre la scelta di quella delle due che avesse voluto dargli ma le ragazze non volevano saperne nulla e se lo palleggiavano dall'una all'altra non trovando il verso di risolversi a sposare un uomo che aveva la barba blu la cosa poi che più di tutto faceva loro ribrezzo era quella che quest'uomo aveva sposato diverse donne e di queste non si era mai potuto sapere che cosa fosse accaduto fatto sta che barba blu tanto per entrare in relazione le menò insieme alla madre e a tre o quattro delle loro amiche e in compagnia di alcuni giovinotti del vicinato in una sua villa dove si trattennero otto giorni interi e lì fu tutto un metter su passeggiate partite di caccia e di pesca balli festini merende nessuno trovò il tempo per chiudere un occhio perché passavano le nottate a farsi fra loro delle cieli insomma le cose presero una così buona piega che la figlia minore finì col persuadersi che il padrone della villa non aveva la barba tanto blu e che era una persona a modo e molto perbene tornati di campagna si fecero le nozze in capo a un mese barba blu disse a sua moglie che per un affare di molta importanza era costretto a mettersi in viaggio e a restare fuori almeno sei settimane che la pregava di stare allegra durante la sua assenza che invitasse le sue amiche del cuore che le menasse in campagna a caso le avesse fatto piacere in una parola che trattasse da regina e tenesse dappertutto corte bandita ecco le chiavi delle due grandi guardarobe ecco quella dei piatti d'oro e d'argento che non vanno in opera tutti i giorni ecco quella dei miei scrigni dove tengo i sacchi delle monete ecco quella degli astucci dove sono le gioie e i finimenti di pietre preziose ecco la chiave comune che serve per aprire tutti i quartieri quanto poi a quest'altra chiavicina qui è quella della stanzina che rimane in fondo al gran corridoio del pian terreno padrona di aprir tutto di andar dappertutto ma in quanto alla piccola stanzina vi proibisco di entrarvi e ve lo proibisco in modo così assoluto che se vi accadesse per disgrazia di aprirla potete aspettarvi tutto dalla mia collera e la promette che sarebbe stata attaccata agli ordini e egli dopo averla abbracciata monta in carrozza e via per il suo viaggio le vicine e le amiche non aspettarono di essere cercate per andare dalla sposa novella tanto si struggevano dalla voglia di vedere tutte le magnificenze del suo palazzo non essendosi arrischiate di andarci prima quando c'era sempre il marito a motivo di quella sua barba blu che faceva loro tanta paura ed eccole subito a sgonnellare per le sale per le camere, per le gallerie sempre di meraviglia in meraviglia salite di sopra nelle stanze di guardaroba andarono invisibilio nel vedere la bellezza e la gran quantità dei parati, dei tappeti, dei letti, delle tavole e dei tavolini da lavoro e dei grandi specchi dove uno si poteva mirare dalla punta dei piedi fino ai capelli e le cui cornici parte di cristallo e parte d'argento e d'argento dorato erano la cosa più bella e più sorprendente che si fosse mai veduta esse non rifinivano dal magnificare e dall'invidare la felicità della loro amica la quale invece non si divertiva appunto alla vista di tante ricchezze tormentata com'era dalla gran curiosità di andare a vedere la stanzina del pian terreno non potendo più stare alle mosse senza badare alla sconvenienza di lasciarli su due piedi tutta la compagnia prese per una scaletta segreta e scese giù con tanta furia che due o tre volte ci corse poco non si rompesse l'osso del collo arrivata all'uscio della sanzina si fermò un momento ripensando alla proibizione del marito e per la paura dei guai ai quali poteva andare incontro per la sua disubbidienza ma la tentazione fu così potente che non ci fu modo di vincerla prese dunque la chiave e tremando come una foglia aprì l'uscio della stanzina dal principio non poté distinguere nulla perché le finestre erano chiuse ma a poco a poco cominciò a vedere che il pavimento era tutto coperto di sangue accagliato dove si riflettevano i corpi di parecchie donne morte e attaccate in giro alle pareti erano tutte le donne che Barba Blu aveva sposate e poi sgozzate una dietro l'altra se non morì dalla paura fu un miracolo e la chiave della stanzina che essa aveva ritirato fuori dal buco della serratura le cascò di mano quando si fu riavuta un poco raccattò la chiave richiuse la porticina e salì nella sua camera per rimettersi dallo spavento ma era tanto commossa e agitata che non trovava la via a pigliar fiato e a rifare un po' di colore essendosi a vista che la chiave della stanzina si era macchiata di sangue la ripulì due o tre volte ma il sangue non voleva andar via ebbe un bel lavarla e un bello strofinarla con la rena e col gesso il sangue era sempre lì perché la chiave era fatata e non c'era verso di pulirla per bene quando il sangue spariva da una parte rifioriva subito da quell'altra Barba Blu tornò dal suo viaggio quella sera stessa raccontando che per la strada aveva ricevuto lettere dove gli dicevano che l'affare per il quale si era dovuto muovere da casa era stato bel accomodato in modo vantaggioso per lui la moglie fece tutto quello che poté per dargli ad intendere che era oltremodo contenta del suo sollecito ritorno il giorno di poi il marito le richiese le chiavi ed ella gliele consegnò ma la sua mano fremava tanto che esso poteva indovinare senza fatica tutto l'accaduto come va che fra queste chiavi non ci trovo quella della stanzina si vede che l'avrò lasciata di sopra sul mio tavolino ma date bene e la voglio subito riuscito riuscito inutile ogni pretesto per traccheggiare convenne portare la chiave barbà blu dopo averci messo sopra gli occhi domandò alla moglie come mai su questa chiave c'è del sangue ah non lo so davvero rispose la povera donna più bianca della morte ah non lo sapete ma lo so ben io voi siete volute entrare nella stanzina ebbene signora voi c'entrerete per sempre e andrete a pigliar posto accanto a quelle altre donne che avete veduto là dentro ella si gettò ai piedi di suo marito piangendo e chiedendo perdono con tutti i segni di un vero pentimento dell'aver disubbidito bella e addolorata com'era avrebbe intenerito un macigno ma barba blu aveva il cuore più duro del macigno bisogna morire signora e subito poiché mi tocca morire rispose guardandolo con due occhi tutti pieni di pianto datemi almeno il tempo per raccomandarmi addio vi accordo un mezzo quarto d'ora non un minuto di più appena rimasta sola chiamò la sorella Anna sorella mia ti prego sali su in cima alla torre per vedere se per caso arrivassero i miei fratelli mi hanno promesso che oggi sarebbero venuti a trovarmi se li vedi fa loro segno perché si affrettino più non posso la sorella salì in cima alla torre e la povera sconsolata le gridava di tanto in tanto Anna Anna sorella mia non vedi tu apparir nessuno non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba che verdeggia intanto barbablu con un gran coltellaccio in mano grigiava con quanta ne aveva nei polmoni scendi subito o se no salgo io un altro minuto per carità Anna Anna sorella mia non vedi tu apparir nessuno non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba che verdeggia spicciati a scendere o se no salgo io eccomi Anna sorella mia non vedi tu apparir nessuno vedo un gran polverone che viene verso questa parte sono forse i miei fratelli no sorella mia è un branco di montoni insomma vuoi scendere sì o no un altro momentino Anna Anna sorella mia non vedi tu apparir nessuno vedo due cavalieri che vengono in qua ma sono ancora molto lontani si è ringraziati Dio sono proprio i nostri fratelli io faccio loro tutti i segni che posso perché si spiccino e arrivino presto intanto barbablu si messe a gridare così forte che fece tremare tutta la casa la povera donna ebbe a scendere e tutta scapigliata e piangente andò a gettarsi ai suoi piedi sono inutili i piagnistei bisogna morire quindi pigliandola con una mano per i capelli e con l'altra alzando il coltellaccio per aria era lì lì per tagliarle la testa alla povera donna voltandosi verso di lui e guardandolo con gli occhi morenti gli chiese un ultimo istante per potersi raccogliere no no raccomandati subito addio e alzando il braccio in quel punto fu bussato così forte alla porta di casa che Barbablu si arrestò tutta un tratto e appena aperto si vide rientrare due cavalieri i quali sfoderata la spada si gettarono su Barbablu esso le riconobbe subito per i fratelli di sua moglie uno dragone e l'altro moschettiere e per mettersi in salvo si dette a fuggire ma i due fratelli lo inseguirono tanto a ridosso che lo raggiunsero prima che potesse arrivare sul portico di casa e costì con la spada lo passarono da parte a parte e lo lasciarono morto la povera donna era quasi più morta di suo marito e non aveva fiato da rizzarsi per andare ad abbracciare i suoi fratelli e perché Barbablu non aveva eredi la moglie sua rimase padrona di tutti i suoi beni dei quali ne dette una parte indote alla sua sorella Anna per maritarla con un gentiluomo col quale da tanto tempo faceva l'amore di un'altra se ne servì per comprare il grado di capitano ai suoi fratelli e il resto lo tenne per sé per maritarsi con un fior di galantuomo che le fece dimenticare tutti i crepacuori che aveva sofferto con Barbablu che aveva sofferto